Stabilimento Gian Battista Vico di Pomigliano d'Arco che ritrova la sua Alfa Romeo, la sua Alfa Romeo, vero Gianfilippo Imparato? La bella sua storia Alfa Romeo, perché da sempre abbiamo fatto Alfa Romeo a Pomigliano e sono particolarmente lieto di avere una nuova tonale, questa fabbrica fantastica. Mi piace il tuo Abbiamo perché hai il percorso, si trova in Peugeot, però hai un passato da Alfista, la tua famiglia ricordiamo, la Giulia è mitica, quando l'hai incontrata al museo di Arese ti sei anche emozionato, quindi è giusto dire Abbiamo perché sei un Alfista in fine conti. Anche il bisnonno è di Gaeta, scusa, 1854, quindi ha migrato in Francia nel 1904, quindi posso dire Abbiamo perché per me è la regione mia. Quindi è il tuo sogno questo? Ah sì, assolutamente, è il sogno di famiglia. Qui abbiamo Alessio Leonardi che è il direttore dello stabilimento di Pomigliano, 42 anni con un giallo di trascorsi importantissimi, arrivi dallo stabilimento serbo del ex gruppo FCA, adesso sempre in Stellantis, prima ancora a Grugliasco dove si costruivano anche le Maserati, prima ancora da Tessa, veicoli commerciali, insomma giovane con tanta esperienza e poi è arrivato questo meritatissimo approdo a Pomigliano per proprio in concomitanza con il lancio di Alfaro Mio Tonale. Assolutamente sì, assolutamente orgoglioso di poter essere qui a rappresentare l'azienda, lo stabilimento in un momento così importante ed essere qui dalle fasi di avamprogetto, da quando il progetto è arrivato in plant, dalle fasi di virtuale fino ad avere adesso la possibilità di vedere la vettura montata lungo le linee. Non perché è qui, ma in rapporto con Gianfilippo Imperato? Direi quanto meno stretto, nel senso che abbiamo comunque una serie di canali sempre aperti, ci vediamo settimanalmente, ci vediamo settimanalmente diciamo sullo schermo piuttosto... Qui è presente Gianfilippo Imperato qui a Pomigliano? Almeno mensilmente, penso che abbiamo tutta una serie di appuntamenti mensili che lo portano qui con piacere per gestire l'attività, per vedere e toccare anche lui con mano quello che è il prodotto che stiamo producendo. Siamo al countdown di Tonale, caro Gianfilippo. Sì, perché dobbiamo decidere il ramp up entro 15 giorni, facciamo questo ramp up a maggio e consegniamo le prime macchine alla rete italiana la prima settimana di giugno. Poi noi le proveremo a fine aprile, prima di maggio? Sì, sì, tu sei fortunato perché la provi l'ultima settimana di aprile, dopo puoi dare la tua reazione e hop, immediatamente consegniamo le macchine. Costruire ancora in questo impianto un Alfa Romeo, adesso si è a contatto quotidiano con gli operai, anche con i dirigenti, capire parto di questo impianto. Che area si respira? Soprattutto per quelli che hanno i capelli bianchi, ma anche per i giovani. Passione, passione rappresentato da 40 anni di storia dello stabilimento, ne parlavamo durante la giornata, 40 anni di storia di Alfa Romeo, direi accompagnati da una parentesi di 10 anni che comunque le persone aspettavano si risolvesse velocemente. Abbiamo un prodotto nuovo, abbiamo un Alfa Romeo, di nuovo sulle linee che in passato hanno ospitato altre Alfa Romeo, ma le persone, come si dice, orgogliose di indossare la casacca rossa e di indossare il freggio sulle loro divise. La parola d'ordine di Gianfilippo Imparato, ma di tutto il gruppo, a partire da John Elkan, Carlo Stavares, è qualità proprio assoluta? All'ennesima potenza, esasperato al massimo del concetto, assolutamente sì. Come l'ha cercata questa qualità? Abbiamo prima vegetato i vari reparti di Pomigliano e c'è un'attenzione maniacale? E soprattutto è fatto da uomini e donne, nel senso che se voglio valutare chi porta la qualità alla fine, sono la gente. Quindi abbiamo investito molto nella formazione, ma al di là della formazione, il mindset è fondamentale, quindi abbiamo tutto il processo, tutto il supporto tecnologico per fare le macchine, ma in più c'è la touch. Se sei appassionato a fare un lavoro fatto bene, il lavoro fatto bene porta a qualità. E non dimentichiamo anche il pandino, Fiat Panda. A 200 metri da qui c'è un piazzale, poi c'è il reparto dove si produce la Panda. Gloriosissima, va avanti fino al 2026, ha detto il vostro amministratore delegato. Confermato, sicuramente una buona notizia, in parallelo chiaramente all'ottima notizia di una nuova vettura, che non farà altro che dare prospettive ottime per il plant di Pomigliano e per tutto quello che gli gravita intorno. Gianferri Pimparato, per concludere il messaggio ai dealer Alfa e ai clienti, ai potenziali clienti, ai giovani che stanno guardando magari se acquistare un Alfa Romeo o no. Ai giovani, tornate a casa ragazzi, basta fare delle cose che non ti piacciono, vieni da noi perché la tribù è aperta. Alla rete? Alla rete molto semplice, se a giugno mi dite avete fatto il job sono contentissimo, quindi vi devo clienti e rete un Alfa Romeo all'altezza, questa è l'ambizione mia. E Tonale farà il giro del mondo perché sarà anche negli altri paesi, Cina, Giappone, Stati Uniti. 31 paesi apriamo dalla prima settimana di giugno e dopo in poi, 31 paesi e l'ultimo paese a essere lanciato sarà lanciato al massimo sei mesi dopo il primo. Chiudiamo una stretta di piano 3, va bene? E forza Tonale. Grazie, grazie. 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 Grazie.